Il Friuli Venezia Giulia Il Friuli Venezia Giulia perde abitanti e invecchia, quasi 90.000 under 50 in meno in 10 anni, aumentano gli stranieri. L'Otta all'evasione fiscale, in Friuli Venezia Giulia solo 7 comuni si sono attivati con controlli mirati, permettendo di recuperare quasi 44.000 euro attraverso le segnalazioni inviati dalle amministrazioni all'Agenzia delle Entrate, lo afferma l'Officio Studi della CGA di Mestre. Inaugurata stamattina nella sede della Società Operaia di Pordenone a Palazzo Gregoris, la mostra storico-documentaria intitolata Angelo Baviera e Cariolanti Chiulani alla Corte del Kaiser. L'esposizione sarà visitabile fino al 10 dicembre. Buonasera telespettatori di Telepordenone, ben trovati a una nuova edizione del telegiornale del Nord-Est, l'informazione dedicata al Friuli Venezia Giulia e al Veneto Orientale, sempre qui in diretta su Telepordenone. Come avete visto dai titoli, la prima notizia, in primo piano una notizia di cronaca, perché questa mattina è morto Pasquale Tamai, l'uomo di 82 anni, marito di Liliana Adeldin, sua coetanea, che era stata trovata priva di vita nella loro abitazione a Meduno, come ricorderete, giovedì scorso. I soccorritori lo avevano trovato in preda a un attacco cardiaco e con un principio di ipotermia. Gli inquirenti adesso attendono risposte sull'accaduto dall'autopsia sul corpo della donna. Vediamo servizio. L'ospedale di Pordenone è anche Pasquale Tamai, l'uomo di 82 anni, marito di Liliana Adeldin della stessa età, che era stata trovata priva di vita nella propria abitazione a Meduno giovedì scorso. L'anziano era stato soccorso verso mezzogiorno dai vigili del fuoco che avevano rotto una finestra per entrare nell'abitazione chiusa dall'interno e dal personale sanitario dopo aver trascorso almeno 18 ore steso a terra nell'impossibilità di chiamare il 112, non lontano dal corpo privo di vita della consorte, con quest'ultima vittima di una probabile caduta accidentale. Quando il rianimatore era entrato in casa aveva trovato Pasquale in preda a un attacco cardiaco e con un principio di ipotermia. Dopo il ricovero in ospedale le sue condizioni si erano stabilizzate ma nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino alla morte. Per capire cosa sia realmente successo nell'abitazione della coppia in via Mizzeri, gli investigatori non potranno quindi parlare con l'unica persona presente al momento del ritrovamento del corpo esanime di Liliana Adeldin, cioè proprio il marito Pasquale Tamai. L'attenzione adesso è rivolta all'esito dell'autopsia sul corpo della donna che verrà effettuata a breve, una situazione che al momento non dà ancora risposte certe con l'ipotesi di una tragica fatalità che comunque resta la più probabile anche se ci sono alcuni dettagli da chiarire come i lividi presenti sul volto di Liliana Adeldin. La villetta è stata subito posta sotto sequestro e lo resterà ancora nei prossimi giorni. Gli investigatori hanno dedicato grande attenzione ai rilievi all'interno della casa, svolti anche grazie agli esperti di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Il decesso della donna, che potrebbe anche non essere legato a traumi, è stato fatto risalire a circa 24 ore prima del ritrovamento. I due figli della coppia, il nipote che ha dato l'allarme per primo e tutta la comunità di Meduno, sono ancora scossi e sperano al più presto di avere risposte sull'accaduto. Adesso una notizia di cronaca che proviene da Pordenone. Una festa in casa si trasforma in violenza, poliziotti presi a calci e pugni a Pordenone. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di musica ad alto volume nell'abitazione arrivata dai vicini di casa. Un festino privato a tutto volume e con alcolici in abbondanza finisce in rissa con gli agenti di polizia intervenuti su segnalazione dei vicini di casa aggrediti con calci e pugni. Il fatto è accaduto nella notte di giovedì 9 novembre a Pordenone, quando due equipaggi della squadra volante della Questura sono intervenuti all'interno di un'abitazione per la segnalazione da parte dei vicini di musica ad alto volume, probabilmente per una festa tra le mura domestiche. Due delle cinque persone presenti nella casa, un 23enne e un 34enne italiani, si sono però rifiutate di fornire le proprie generalità agli agenti e in stato di alterazione alcolica hanno iniziato ad urlare nei loro confronti per poi spintonarli e colpirli con calci e pugni. Per la violenta resistenza e lo stato di agitazione, i giovani sono stati immobilizzati con l'utilizzo del taser in dotazione agli agenti. I poliziotti, che hanno riportato dai 3 ai 4 giorni di lesioni di prognosi, hanno quindi proceduto all'arresto di entrambi i giovani, decidendo per loro la misura degli arresti domiciliari. Il loro arresto è stato poi convalidato il giorno dopo in tribunale a Pordenone ed è stata anche disposta alla liberazione dei due soggetti. In manette una banda di ladri di rame che era attiva nel Pordenonese. Si tratta di 8 cittadini di origine rumena accusati di 3 furti ai danni di un'azienda che commercia Rottami all'ingrosso. La polizia di stato di Pordenone sgomina una banda di ladri di rame originari della Romania. Due furti di rame, avvenuti in altrettante aziende della provincia di Pordenone, hanno messo la polizia sulle tracce di una banda criminale. Le indagini sono iniziate lo scorso maggio, quando un equipaggio della squadra volante della questura di Pordenone è intervenuto presso un'azienda dedicata al commercio all'ingrosso di Rottami e sottoposti della lavorazione industriale di Metallis a Pordenone. Gli inquirenti hanno constatato che i gnoti, dopo aver forzato la rete metallica di protezione, si erano introdotti nell'azienda ed avevano esportato oltre 3 tonnellate di rame dal valore commerciale di circa 35.000 euro. Un episodio simile si era verificato anche qualche giorno dopo, quando individui, agendo di notte, si erano introdotti nella stessa azienda e avevano asportato ulteriori 20 kg di rame. In seguito a tali furti, gli agenti della squadra mobile, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Marco Fayon, hanno avviato un'attività investigativa complessa ed articolata, svolta anche attraverso attività di carattere tecnico. Questa attività ha permesso di individuare e arrestare i componenti di un sodalizio criminale composto da almeno 8 cittadini di origine rumena, di cui uno solo residente in Italia, quasi tutti con precedenti penali dediti alla commissione sistematica e continuativa di furti in rame e altrettanto materiale ferroso in tutto il centro-nord Italia. Le indagini hanno appurato che il gruppo, oltre a aver commesso un terzo furto presso la stessa ditta precedentemente colpita, ha anche tentato un furto ai danni di un'azienda di Azzano Decimo. In questo caso, a causa dell'attivazione del sistema di allarme, non sono riusciti a portare a termine il furto. Tuttavia, il 27 giugno, la banda ha esportato oltre due tonnellate di rame da un'azienda di una provincia di Padova. Le indagini hanno rivelato che il sodalizio criminale agiva utilizzando sempre lo stesso collaudato modus operandi. Non tutti e otto gli indagati compivano i furti, ma un gruppo di tre o quattro soggetti alla volta. Dopo essere giunti in Italia dalla Romania a bordo di due auto, di cui una solitamente un minivan, sceglievano l'obiettivo tramite una ricerca su internet e poi passavano all'azione. Praticando un foro nella recinzione, i ladri facevano ingresso nell'azienda e in pochi minuti esportavano materiale ferroso, soprattutto rame, caricandolo nelle autovetture. Dopo l'azione criminale, il gruppo di solito faceva ritorno immediato in Romania. Talvolta, invece, decideva di sostare prezzo stazioni di servizio, autostrade, evitando di alloggiare in hotel e alberghi per rendersi irreperibili. Al termine dell'attività investigativa, il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto dall'emissione del GIP Rodolfo Piccin un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i set degli otto indagati. Il 1 ottobre, gli agenti della squadra mobile hanno individuato due degli arrestati di 27 e 23 anni sull'autostrada A34 diretti a Trieste, mentre tentavano di lasciare il territorio nazionale. In collaborazione con la polizia stradale, li hanno bloccati, arrestati e associati alla casa circondariare di Trieste. Nell'auto sono state rinvenute e sequestrate numerose barrette di stagno di circa 50 cm ciascuna con un peso totale di oltre 3 tonnellate oltre a altro materiale ferroso presudibilmente provento di furto. All'atto dell'arresto, i due erano accompagnati da un terzo soggetto deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione. Nel pomeriggio del 1 ottobre altro personale della squadra mobile invece si è recato in provincia di Ferrara dove con l'ausilio del personale della squadra mobile ha individuato e arrestato il terzo componente della banda un cittadino rumeno dei 36 anni. L'indagine ha assunto rilievo internazionale e ha richiesto la collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia per localizzare i restanti componenti del gruppo in Romania. Sono stati localizzati e arrestati dalla polizia rumena in esecuzione del MAE emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone e sono ora in attesa di estradizione. Le indagini della squadra mobile proseguono per raccogliere ulteriori elementi provatori contro il gruppo e verificare se abbiano commesso ulteriori furti dello stesso tipo in danno di aziende dedite al commercio di materiale ferroso in altre province del centro Nord Italia. Adesso ci spostiamo in Veneto e precisamente a Rovigo dove sono stati fatti controlli allo sbarco delle vongolare nel Polesina ovviamente parliamo delle imbarcazioni tipiche utilizzate nel medio e alto adriatico contestate violazioni con sanzioni per 10.000 euro sequestrate anche oltre 15 quintali di vongole e l'operazione alla firma delle fiamme gialle. I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Levante e della competente Capitaneria di Porto di Chioggia nell'ambito di un controllo del territorio finalizzato alla tutela della salute pubblica particolarmente mirato al contrasto della pesca abusiva di vongole veraci all'immissione in commercio di prodotto ittico illecitamente detenuto ha eseguito un'attività operativa congiunta lungo le rive del fiume Po con l'obiettivo di contrastare e reprimere il fenomeno della pesca abusiva nel mare Adriatico in particolare sono stati effettuati diversi appostamenti e osservazioni continuative in prossimità dell'imboccatura di Porto Levante al fine di monitorare l'uscita e rientro di pescherecci adibiti alla pesca di molluschi bivalvi distanza a Porto Levante al termine dell'attività congiunta i militari hanno sottoposto al controllo 4 motopesca identificato 8 persone sottoposto a sequestro 1.570 kg di molluschi bivalvi in alcuni casi abilmente occultati a bordo delle predette unità impedendone di fatto la commercializzazione il prodotto illecitamente pescato detenuto in quanto ancora vivo e vitale è stato rigettato in acqua profonda per il ripopolamento delle risorse auletiche a carico delle persone identificate sono state elevate sanzioni per un totale di 10.000 euro per violazione della normativa sulla tracciabilità e la commercializzazione di prototti ittici e tutti gli attrezzi utilizzati per la pesca sono stati sequestrati sono in corso ulteriori verifiche documentali particolarmente mirate a verificare violazioni di natura fiscale poiché il prodotto ittico identificato nel quantitativo e nella qualità rilevata avrebbe garantito un guadagno illecito e non tracciabile una volta immesso in commercio penalizzando in questo modo gli altri operatori onesti del settore l'importante l'importante risultato è stato ottenuto grazie all'efficace coordinamento delle due forze di polizia già avesse a collaborare ciascuna per le materie istituzionali di competenza nell'attività di indagine di reciproco scambio informativo nonché nell'effettuazione di controlli interforze positiva espressione dell'efficiente operare unitario delle varie componenti dello Stato adesso parliamo del censimento in Friuli Venezia Giulia che prende il periodo 2011-2021 residenti in aumento solo in 25 comuni persi quasi 90.000 under 50 in 10 anni il record è a Fontana Fredda con più 10,6% la popolazione poi invece crolla nelle vali del Natisone e in montagna da Fontana Fredda al comune del Friuli Venezia Giulia che segna l'incremento più alto della popolazione residente dal 2011 al 2021 più 10,6% a Savogna il comune con la decrescita più netta nello stesso periodo dopo Fontana Fredda completano la top 10 di quelli con una popolazione in aumento Chiopris-Viscone con un più 10% Monfalcone più 7,5 Lignano-Sabbiadoro più 6% Visco più 5,3% Tavagnacco Moruzzo Campo Formido Fiume Veneto e Pordenone con un più 2% complessivamente sono solo 25 su 215 comuni con un saldo positivo rispetto a 10 anni prima mentre la popolazione crolla nelle valli del Natisone in montagna Il punto di partenza è il censimento della popolazione al 31 dicembre 2021 data in cui in Friuli Venezia Giulia si contavano 1.194.647 residenti 25.644 in meno rispetto a 10 anni prima Se si considera l'intero periodo del dopoguerra in regione si è raggiunto un valore più basso solo nel 2001 Si ricorda che le rilevazioni censuari determinano la popolazione legale che trova riferimento in una serie di norme e che costituisce la base informativa ufficiale utilizzata a livello politico nei confronti internazionali La provincia di Udine rappresenta il passivo di maggiore entità sia in termini relativi sia assoluti Al contrario quella di Pordenone evidenzia la diminuzione meno accentuata meno 0,4% pari ad appena 1.338 abitanti in meno L'area esontina e quella giuliana mostrano una flessione percentuale analoga I centri di minori dimensioni risultano più colpiti dal declino demografico in particolare quelli con meno di 5.000 abitanti che hanno registrato una riduzione di oltre 17.300 residenti in 10 anni pari al 6% del totale La suddivisione del territorio regionale in base alle zone altimetriche Istat inoltre indica come l'area montana abbia perso ben il 10,5% della popolazione nel periodo considerato che corrisponde a meno 7.154 residenti Per quanto riguarda i maggiori comuni della regione da una parte si osserva il saldo particolarmente negativo di Gorizia a meno 4,5% dall'altro l'altrettanto notevole variazione ma di segno opposto di Monfalcone con un più 7,5% anche il numero di residenti a Pordenone è significativamente aumentato con un più 2% Le previsioni dell'Istat per il prossimo decennio stimano un ulteriore calo della popolazione che nello scenario mediano ossia quello con maggiore probabilità di verificarsi nel 2031 dovrebbe portare il numero di residenti in regione al di sotto di 1.180.000 con una flessione di oltre 18.000 unità E adesso parliamo con un ospite che ci ha raggiunto in studio abbiamo il piacere di avere con noi come ogni sabato Tiziano Centis presidente della Civica FWG Buonasera Centis e bentrovato Buonasera a lei e ai telespettatori Io comincerei a parlare con lei a partire dal vertice che c'è stato ieri tra il nuovo prefetto di Pordenone Manno e i sindaci della destra al tagliamento riguardo all'accoglienza diffusa un vertice importante che era stato già annunciato nei giorni precedenti proprio dal prefetto per cercare di attivare i comuni che hanno più disponibilità di trovare qualche posto per i migranti della rotta balcanica Cosa è emerso? Sicuramente è emerso che San Vito al Tagliamento il suo comune è uno dei primissimi se non il primo comune a aver accettato questa proposta che è anche una clausola Sicuramente questo è un passo avanti importante infatti il prefetto ha convocato attorno al suo tavolo tanti sindaci della destra al tagliamento per coinvolgerli e per chiamarli a un proprio compito a una propria responsabilità e a un passo avanti per quanto riguarda un'accoglienza diffusa questo è sicuramente un passo importante anche perché ha vari aspetti e varie letture si può dare a questo tipo di intervento la prima sicuramente è di non lasciare soli quei comuni vedi Pordenone vedi Udine vedi Trieste Gorizia quei comuni ex capologhi di provincia che si stanno assumendo il carico principale dei tanti migranti dei tanti richiedenti di asilo che devono in qualche modo ospitare innanzitutto questo dopo di che viene meno anche il fatto che c'è la necessità poi anche di reperire un sito un posto che nessuno vuole qualsiasi comune ha già rispinto la possibilità di poter insediare all'interno del proprio territorio un centro di ammassamento migranti un hotspot quindi anche questo viene meno la necessità di trovare un punto di riferimento un comune per questo tipo di struttura e ovviamente questo è anche un passo avanti importante perché questa forma di accoglienza diffusa viene come posso dire in modo tale da rispettare da controllare da vigilare tutte quelle forme di bivacchi di prenotamenti nei vari parchi di insomma una soluzione che andava andava fatta andava portata e sicuramente questa del del prefetto che ha convocato i sindaci è sicuramente un passo importante San Vito si è messo a disposizione del resto San Vito ma altri comuni anche San Martino Telemento ho sentito insomma si sta si sta proponendo ma altri comuni comuni che hanno la possibilità di poter avere anche una rete di cooperazione sociale privata che è presente nel territorio che può mettere a disposizione delle strutture del personale delle forme appunto di accoglienza e di gestione dei migranti che stanno chiedendo appunto della ruta balcanica che stanno arrivando nella nostra regione e che ovviamente chiederanno anche l'asilo politico quindi sicuramente è un passo davanti importante i sindaci sanno abbiamo dei bravi amministratori comunali dei bravi sindaci si metteranno a disposizione quindi questo sicuramente è un passo importante e il nuovo prefetto ha colto il senso e anche l'occasione per dimostrare che il territorio risponde quando è chiamato e poi questi comuni vengono automaticamente esclusi dai bandi per trovare posti in strutture più grandi in futuri bandi appunto come risarcimento o comunque come premio per questo tipo di attività sicuramente si parla anche di Pordenone poi c'è stato anche un punto sui migranti ucraini anche in questo caso si parla invece di accoglienza diffusa di seconda accoglienza diffusa per il caso della guerra in Ucraina sì è vero infatti è ancora aperta la questione ad esempio dello spot di Yalmico nel comune di Palmanova che anche lì non si sa se è avanti o meno quindi c'è questa clausola di salvaguardia che quei comuni che si mettono a disposizione e che hanno delle strutture per poter ospitare i migranti automaticamente vengono tolti da questa forma di elenco dei comuni che possono mettere a disposizione delle strutture per questi hotspot per questi centri di ammassamento di migranti quindi è questa la formula diciamo importante perché ovviamente si rispetta anche chi si mette a disposizione a quel punto lì insomma non partecipa all'eventuale scelta di un sito per accogliere diciamo un numero importante insomma di migranti quindi questa è una soluzione decisamente buona poi ci sono anche i licoraini che anche questi ovviamente hanno necessità un'accoglienza di secondo livello di secondo grado che ovviamente anche questi insomma hanno la possibilità di poter essere accolti in quei comuni che hanno delle strutture delle palazzine o dei centri di accoglienza che possono essere sicuramente utili anche per loro io parlerò un attimo anche di sanità molto velocemente c'è stato questa settimana è stato presentato il report nazionale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che ha monitorato nel primo semestre di quest'anno i tempi di attesa negli ospedali in 13 regioni sono 13 regioni sono quelle che hanno inviato effettivamente poi i dati e tra queste regioni purtroppo il famiglio di coda è proprio Friuli Venezia Giulia con dati allarmanti e che dire ahimè si conferma la situazione grave che abbiamo nella nostra regione per conto riguardi i tempi delle liste di attesa non siamo bene questo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari delle regioni conferma che la regione Friuli è all'ultimo posto sulle 13 che hanno presentato i dati che hanno presentato un report per quanto riguarda appunto la gestione delle liste di attesa si conferma che siamo male si conferma che non rispettiamo i tempi per quanto riguarda certi servizi specialistici certe analisi particolari e ovviamente questo va ulteriormente a confermare una situazione grave che stiamo attraversando tutti i cittadini in modo particolare della nostra regione purtroppo in me i 10 milioni che qualche mese fa è stato ancora nella scorsa legislatura sono stati messi in disposizione per accorciare le liste di attesa non si sa dove siano finiti e comunque non hanno portato sul beneficio quindi purtroppo siamo in una condizione ancora oggi di poter dire nulla di nuovo per quanto riguarda la velocità per quanto riguarda il rispetto degli appuntamenti delle visite e dell'accorciamento di queste liste che comunque sono sempre lunghe il report ovviamente differenziava i tipi di priorità parlando di priorità A, B, C, D e via dicendo differenziando ovviamente questo tipo di attese ma ovviamente in generale emerge questo quadro rispetto a tante altre regioni grazie a Tiziano Centis presidente della Civica FWG e buonasera grazie grazie a voi grazie proseguiamo con le notizie del telegiornale lotta all'evasione fiscale in Friuli, Venezia e Giulia sono solo 7 i comuni che si sono attivati permettendo di recuperare quasi 44 mila euro attraverso le segnalazioni inviate dalle amministrazioni comunali all'Agenzia delle Entrate lo afferma l'ufficio studi della CGA di Mestre basandosi sui dati del Ministero delle Finanze in Friuli, Venezia e Giulia solo 7 comuni su 215 cioè il 3,2% del totale hanno contribuito nel 2022 a contrastare l'evasione fiscale individuando anomalie nei tributi locali come l'Imu la Tari o la Tosap le amministrazioni comunali possono infatti accertare irregolarità sulle tasse statali come l'IRPEF l'IRES l'IVA e le imposte di registro ipotecaria e catastali lo rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre che ha elaborato i dati del Ministero delle Finanze ed elogiato l'attività di accertamento fiscale e contributivo svolto anche da piccoli comuni con pochi dipendenti si tratta di Trieste Nimis Cividale Varmo Coseano San Giorgio di Nogaro e Fagagna tra i grandi assenti si notano gli altri tre capoluoghi della regione come Udine che ad esempio conta un esercito di 800 dipendenti tra i suoi uffici il buon operato dei sette comuni virtuosi ha consentito lo scorso anno di recuperare quasi 44.000 euro di evasione permendo alle amministrazioni di ricevere poi la metà della somma sui contributi non versati e accertati la legge infatti prevede che questo riconoscimento sia pari al 50% dell'imposta recuperata dall'Agenzia delle Entrate in seguito alle segnalazioni qualificate ricevute proprio dai comuni il problema dell'evasione fiscale anche in Friuli Venezia Giulia è forse imputabile alla carenza del personale nei municipi e alla mancata formazione degli stessi dipendenti per un'attività investigativa di questo tipo le informazioni che il comune deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate devono infatti essere circostanziate e riconducibili prevalentemente alle fonti di reddito immobiliari già oggetto di accertamento ai fini dei tributi locali in Friuli Venezia Giulia l'evasione fiscale l'abusivismo edilizio e il lavoro nero hanno dimensioni molto contenute rispetto al resto del paese tuttavia anche qui esistono delle situazioni di illegalità che devono essere contrastate pertanto anche i comuni friulani e giuliani dovrebbero fare di più investendo sulla formazione del personale in grado di stanare chi affitta ai turisti seconde e terze case in nero abusivi che fanno i lavoratori autonomi senza avere la partita IVA o chi dichiara redditi bassissimi pur disponendo di beni di lusso e adesso una notizia di politica il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha nominato il nuovo coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia Luca Sutt lascia l'incarico a Elena Danielis Sutt oggi ha pubblicato anche un post di saluto e di ringraziamenti sulla propria pagina Facebook dopo un anno e mezzo di intensa attività come coordinatore regionale è arrivato il momento di lasciare il mio incarico scrive Sutt è stato un periodo di intenso lavoro a stretto contatto con i coordinatori provinciali attivisti portavoce e tutti gli amici del Movimento 5 Stelle vi ringrazio tutti per questa avventura e per la collaborazione e ringrazio Giuseppe Conte per la fiducia che ha voluto riporre su di me la nuova coordinatrice regionale Elena Danielis ha intanto subito nominato Paolo Menis come coordinatore provinciale per Trieste adesso un piccolo break per la pubblicità ma torniamo tra pochissimo con il resto delle notizie e rientriamo in studio per la seconda parte del telegiornale del nord-est apriamo subito con un altro ospite abbiamo il piacere di avere con noi Danilo Signore consigliere comunale di Aviano buonasera e bentrovato signore buonasera a lei e a tutti i telespettatori allora parliamo di un caso specifico che non solo riguarda Aviano ma di cui si parla in questi giorni parliamo di bambini delle scuole che stanno riportando dei problemi intestinali molto probabilmente o quasi sicuramente collegati al problema dell'acqua torbida che a quanto pare è ancora presente nelle falde perché il problema che era stato segnalato nella settimana scorsa da Idrogea quando c'era stata l'ondata di maltempo in Friuli di Venezia Giulia che ci fosse questa possibilità adesso ci sono molti bambini malati a casa e i comuni probabilmente dovevano mettere anche in pratica qualche azione dopo questa segnalazione secondo lei? Ma intanto partiamo col dire che noi non siamo sicuramente diciamo medici o comunque persone che possono stabilire il tipo di problema che ha colpito questi bambini delle scuole tuttavia c'è un tema che bisogna comunque essere chiari come giustamente lei diceva l'Idrogea prontamente aveva inviato delle comunicazioni alle amministrazioni comunali tra le quali appunto Aviano con la quale raccomandava quindi ha usato un un termine ben preciso raccomandava di non usare l'acqua dell'acquedotto ai fini alimentari in quanto poteva essere dopo gli eventi atmosferici torbida quindi poteva contenere degli elementi insomma che rendevano appunto l'acqua torbida come sappiamo ci sono dei parametri che stabiliscono la potabilità o meno dell'acqua l'Idrogea nella sua raccomandazione diceva appunto l'acqua potrebbe non essere potabile e quindi non usarla bene questo è il primo tema questa raccomandazione ad Aviano è arrivata il 2 novembre e ad altre amministrazioni probabilmente qualche giorno prima appunto in relazione delle condizioni atmosferiche che abbiamo subito il tema è cosa bisognava fare una volta ricevuto questa raccomandazione io pongo delle domande pongo dei quesiti anche da ex amministratore comunale nel momento in cui arriva una raccomandazione del genere dall'ente gestore dalla società che gestisce l'acquedotto io credo che la prima cosa bisogna chiedere l'UMI all'ente preposto e cioè all'ASPO cioè almeno io così avrei fatto certo l'ente gestore mi dice attenzione l'acqua potrebbe non essere potabile bene io che faccio io chiedo l'UMI all'ASPO non so se sia stata fatta per tempo dopo e questo lo chiederemo prossimamente pare che comunque insomma queste richieste siano state fatte anche con qualche giorno di ritardo qualcuno mi diceva che ha letto che sono state inviate il giorno 9 ma la lettera dell'idrogea è datata 2 novembre quindi un po' di giorni dopo ad Aviano poi c'è il tema e questo è il tema diciamo acqua potabile o non potabile che riguarda l'intera cittadinanza quindi qualsiasi giovani meno giovani tutti i cittadini avianesi parliamo di Aviano poi c'è il tema delle scuole il tema delle scuole è accaduto che in questi giorni e io personalmente ho ricevuto diverse segnalazioni decine e decine di bambini sono a casa adesso si spera che rientrino insomma a inizio della prossima settimana per problemi gastrointestinali principalmente adesso uno dice beh potrebbe essere un'influenza certamente tuttavia a scuola ad Aviano usano a mensa l'acqua dell'acquedotto quindi danno a pranzo l'acqua dell'acquedotto ed ecco il collegamento quindi ripeto non sappiamo se il problema sia l'acqua o meno sta di fatto che ci sono questi due elementi che hanno una certa convergenza cioè guarda caso c'è stato il problema della turbidità dell'acqua che l'idrogea dice attenzione non usate la scopo alimentare e subito dopo questa diciamo epidemia di ragazzini i ragazzini hanno bevuto sicuramente l'acqua a mensa la massa dei cittadini usa ormai e con sue durdine in tutte le famiglie usare l'acqua minerale quindi ecco che io dico attenzione però il tema è anche cosa doveva fare l'amministrazione ripeto io sinceramente avrei chiesto l'UMI all'azienda sanitaria l'azienda sanitaria mi risponde bene non mi risponde e metto un'ordinanza e dico l'acqua a mio avviso non si usa perché se l'idrogea mi dice non è potabile io non sono un esperto io amministratore chiedo all'idrogea all'aspo l'astro mi risponde velocemente mi dice ok buona benissimo mi dice non è buona ordinanza non mi risponde ordinanza l'acqua non si beve perché devo salvaguardare comunque l'aspetto principale che è la salute di tutti quindi io non posso sapere se è buona o non è buona sta di fatto che c'è una raccomandazione da chi gestisce l'acquedotto ecco questo è un po' il tema purtroppo dispiace noi l'abbiamo subito nel 2019 perché qualcuno forse ricorda che la precedente amministrazione a cavallo di gennaio febbraio 2019 ci fu il problema dell'acqua che ce lo siamo trascinati fino a giugno 2019 maggio giugno 2019 in settimana c'è stato anche il consiglio comunale serale come sempre alle 20 da lei anche criticato per la scelta di questo orario qual è stato il punto della situazione quali sono i temi più importanti emersi da questo consiglio comunale beh come avevo anticipato insomma non saremo stati in grado di discutere i 23 punti all'ordine del giorno tant'è che ne abbiamo discussi solo 5 ma questo era scontato anche perché i punti principali erano due ordini del giorno che adesso illustrerò rapidamente poi c'era una variazione di bilancio l'ottava oltre all'approvazione di un cambiamento di alcuni cambiamenti sul regolamento della casa di riposo e la nomina di due nuovi membri delle commissioni affari generali e servizi sociosanitari bene i due temi principali che hanno allungato un po' la discussione è stato l'ordine del giorno sul fine vita e poi l'ordine del giorno sul sfruttamento delle donne diciamo luttare un affitto per dirla in termini molto semplici in modo da capirci ecco due temi su due ordini del giorno che hanno visto il mio voto di astensione su entrambi i temi per un fatto diciamo di ragionamento generale il fine vita è un tema molto molto delicato quest'ordine del giorno chiedeva in sintesi insomma un intervento affinché la regione dietro quella richiesta di referendum che c'è stata insomma legge farasse affinché ci fosse appunto la possibilità per ognuno di scegliere e quindi il fine vita benissimo pur condividendo molti passaggi tuttavia ritengo personalmente che questo è un tema che vada affrontato a livello nazionale non possiamo avere 20 regioni che ognuna legge farà in maniera casomai differente e quindi abbiamo una moltiplicità di 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 leggi regionali anche perché va bene l'autonomia differenziata ma in certi casi sono temi che debbono essere gestiti a livello nazionale quindi ripeto pur condividendo alcuni passaggi ci sono dei paletti tra l'altro che la Corte Costituzionale ha precisato nel dire che l'articolo 580 del codice penale relativa appunto al discorso del suicidio o dell'istigazione al suicidio è incostituzionale ma solo in parte quindi dei paletti ben precisi che vanno comunque approfonditi e a mio avviso insomma un Consiglio Comunale non ha in fin dei conti tutti gli elementi per poter arrivare a questo fin tanto non ci sono dei passaggi a livello regionale quindi aspettiamo cosa quali saranno i prossimi passaggi e poi ci possiamo anche esprimere su questa cosa per quanto riguarda invece velocemente il discorso del telegrafico molto telegrafico anche là mi sono astenuto e anche là è un tema molto complesso ecco non porto via altro tempo forse non si è sentito questo argomento era il secondo? l'utero in affitto ma ne parleremo ancora sicuramente grazie a Danilo Signore per il suo intervento e buonasera grazie a lei buonasera a tutti e cambiamo argomento cresce l'impegno di Camere di Commercio e della Regione Friuli Venezia Giulia per la sostenibilità e la digitalizzazione delle imprese dagli 850 mila euro di voucher digitali ai 2500 partecipanti a eventi di formazione fino a un nuovo impegno sulla sostenibilità con lo strumento di valutazione Sustainability messo a disposizione anche delle aziende a marchio Io sono FWG un centinaio di eventi informativi e formativi sul digitale con più di 2500 partecipanti quasi 750 report di valutazione della maturità digitale della sicurezza informatica delle imprese 850 mila euro erogati sotto forma di voucher digitali per le aziende e ancora quasi 1000 azioni di orientamento e assistenza personalizzata sul digitale agli imprenditori oltre 35 mila dispositivi digitali rilasciati e 1500 speed il presidente Giovanni D'Apozzo della Camera di Commercio si è soffermato sulle cifre dell'ultimo triennio per sintetizzare numericamente l'impegno della Camera nella sensibilizzazione e nell'accompagnamento delle imprese nel percorso ormai imprescindibile verso la doppia transizione ecologica e digitale un percorso che sarà sempre più centrale nell'azione camerale che si è ampliato di recente con la piattaforma Sustainability messa a punto con la consortile di Intec tool di orientamento sul livello di sostenibilità che ogni azienda può eseguire in maniera semplice e veloce l'applicazione si è rivelata uno strumento ideale anche per la misurazione della performance di sostenibilità delle aziende aderenti al marchio collettivo regionale io sono Friuli Venezia Giulia proprio sul valore della sostenibilità e sul caso virtuoso del marchio si è addentrato il convegno organizzato dall'ente camerale in collaborazione con le partecipate Fondazione Agri Food in Biotechnology Friuli Venezia Giulia e Cevic è andato in scena ieri pomeriggio al castello di Colorello di Monte Albano un incontro che si è aperto con gli interventi oltre che del presidente da Pozzo anche dall'assessore regionale Sergio Emilio Bini di Claudio Filippuzzi presidente di Fondazione Agri Food e Germano Zorzetti presidente di Cevic SRL il marchio io sono Friuli Venezia Giulia è condiviso da sempre più aziende sul territorio regionale evidenziato Bini proprio per i principi che comunica a partire dall'applicazione del concetto di sostenibilità intesa come ambientale sociale ed economica impegnarsi nel miglioramento dei propri livelli di sostenibilità e utilizzare materie prime provenienti dalla regione sono gli assiomi su cui si poggia il sistema del marchio e il costante aumento delle aziende licenziatari e testimonia quanto ci sia l'interesse A Ecomondo 2023 manifestazione in corso di svolgimento a Rimini c'è un esempio di economia circolare che proviene dal Friuli Venezia Giulia innovazione nel recupero delle risorse con forte vocazione al tema ambientale e al territorio il modello di business vincente è quello di Gruppo Luci Anche quest'anno le aziende del Gruppo Luci sono ospiti A Ecomondo la manifestazione di riferimento nazionale ed europea per la transizione ecologica e l'economia circolare un'opportunità di incontro e networking con altre realtà interlocutori del settore ambientale che si svolge dal 7 al 10 novembre a Rimini Expo il Gruppo Luci si prefissa di condividere la moltiplicità di attività e servizi forniti dalle realtà aziendali che ne fanno parte integrate sinergicamente tra loro e accomunate da una forte vocazione al tema ambientale della ricerca e sviluppo con uno sguardo rivolto all'innovazione continua Ecomondo diventa inoltre lo scenario propizio per presentare i risultati concreti degli impegni legati alla sostenibilità Su questo fronte la Gesteco appartenente al Gruppo Luci ha presentato l'impegno profuso per accelerare la transizione verso un'economia più sostenibile attraverso la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità un documento costruito sulla base di fatti e misurazioni di impatto in continua interazione con gli stakeholder Un primo segnale di questo dialogo e scambio virtuosi è il fatto che il 95,8% del valore che Gesteco crea era distribuito in particolare nel 22 sono stati investiti 1,4 milioni di euro nello sviluppo del business ma sono stati anche restituiti al territorio più di 166 mila euro una quota in crescita del 38% sul 21 ed è stilata prevalentemente a sostegno allo sport alla scuola e a forma di sensibilizzazione sociale e culturale oggi siamo un esempio significativo di economia circolare perché i nostri impianti costituiscono un sistema che si autosostiene siamo un operatore virtuoso in grado di valorizzare scarti, materiali e rifiuti donando loro una seconda vita in altri processi una vera circolarità sottolinea Adriano Luci presidente del gruppo nonché vicepresidente di Gesteco come consuetudine da oltre 20 anni Ecomondo rappresenta per le aziende del gruppo l'utilo scenario dove poter condividere le loro proposte e innovazioni ed è un onore essere tra la prima realtà friulana a partecipare cui nel corso degli anni si sono aggiunti altre aziende della regione la proprietà del gruppo è stata lieta di accogliere nel suo stand l'assessore regionale all'infrastruttura del Friuli Venezia Giulia Cristina Mirante e il direttore generale di Confindustria Udine Michele Nancioni in visita Ecomondo nell'occasione l'assessore Mirante ha sostenuto incontri con le aziende del territorio presenti in qualità di espositori sottolineando l'evoluzione nell'utilizzo di materiali innovativi e il recupero e l'utilizzo dei materiali provenienti dalle demolizioni edilizie con una forza attenzione al recupero delle aree degradate E adesso parliamo con un altro ospite che ci ha raggiunto in studio a fianco a me c'è Nazario Mazzotti come ogni sabato sindacalista della SPCGL del Friuli Occidentale Buonasera e bentrovato Buonasera a lei e a tutti Prego Noi non possiamo non iniziare col dire due parole sulla tragica situazione a Gaza Io mi domando se non bastano ancora oltre 20.000 feriti oltre 11.000 morti di cui la metà bambini con un bimbo morto ogni 10 minuti ed un milione di profughi in fuga contro i quali Israele ha aperto anche il fuoco sui loro accampamenti Ciò detto veniamo a parlare del tema di stasera che è il programma di manifestazione di sciota rititolato Adesso basta indetto da CGL e UIL in tutta Italia a sostegno degli obiettivi della piattaforma monetaria venerdì 17 venerdì prossimo c'è l'osserva generale di tutti i settori pubblici quindi alle 9.30 è previsto un presidio davanti alla prefettura il nostro invito quindi a tutti di partecipare per dimostrare che sosteniamo le richieste presidi si terranno anche anticipatamente dalle 7.30 alle 9.30 davanti all'ospedale civile della cittadella al comune di Pordenone e ad alcune scuole quali l'IT Kennedy l'Istituto Geometri e il Lecero e la Majorana nei pressi di Cinema Zero poi venerdì 24 ci sarà lo sciopero generale di 8 ore in tutte le regioni del nord perché questi scioperi? perché è necessario modificare politiche economiche e sociali di governo il primo punto che noi abbiamo in piattaforma è quello che le paga e le pensioni devono aumentare le famiglie non ce la fanno più a far fronte all'inflazione 17% in due anni provocata dalla crescita eccessiva dei profitti e dalla speculazione delle imprese non è vero che ci saranno 100 euro in più nelle buste paga del 2024 come ha detto la Meloni gli sgravi contributivi sono in circa gli stessi del 2023 che sono stati solo rinnovati nel 2024 mentre il governo non ha previsto sufficienti risorse per rinnovare i contratti del pubblico impiego e per la detassazione degli aumenti c'è poi il tema gravissimo della salute e sicurezza sui posti di lavoro dobbiamo chiederci se mille morti più o meno all'anno per infortuni incidenti sul lavoro non ci bastano ancora quindi noi sosteniamo che occorre investire sulla formazione dei lavoratori e sull'assunzione di ispettori sui giovani dobbiamo confermare basta precarietà ancora favorire il lavoro stabile e alzare le paghe per frenare la fuga colossale verso l'estero sommano circa 125.000 i giovani che ogni anno lasciano l'Italia di cui 60.000 laureati mentre per gli studenti occorre garantire il diritto allo studio tramite borse di studio e loggi pubblici invece nel PNR i soldi destinati a ciò sono stati sforzati dall'altra parte ecco sulle pensioni chiediamo e confermiamo la necessità di una vera riforma che vada oltre la legge Fornero non di peggiorarlo come hanno presto di fare con la legge di bilancio del prossimo anno e serve una pensione di garantia per dare una prospettiva ai giovani e la piena tutela del reddito del potere d'acquisto di chi è già in pensione con la restituzione del drenaggio fiscale e smettendola di tagliare ciò che spetta di recupero dell'inflazione che subiamo ecco sul fisco la vergogna sono i 100 miliardi di euro di elezione fiscale ad ogni anno e altri 100 tra nero ed evasione contributiva basta sanatori e condoni questo ha fatto il governo Meloni ne ha fatti 14 quando è in vita non lotta all'evasione quindi basta premiare con la tassa piatta la flat tax coloro che già evadono il 70% del proprio reddito sono parole dello Stato non via basta tasse di favore una tassa diversa per ogni tipo di reddito ma un'unica tassa sulla somma dei redditi di ognuno come prescrive la Costituzione poi c'è la partita degli extra profitti Meloni voleva tassare gli extra profitti delle banche poi c'è stata la clamorosa e ridicola marcia indietro offrendo loro due possibilità la prima è quella di versare in una parte lo Stato la seconda di tenerseli è ovvio che i soldi bisogna andarli a prendere dove si sono accumulati è altrettanto ovvio che così si poteva produrre solo un flop totale con zero entrate per lo Stato a conferma in settimana tre banche hanno pubblicato i loro risultati al 30 settembre scorso rispetto agli stessi nove mesi del 2022 i loro extra profitti sommano a 10 miliardi circa pensate su quante entrate extra poteva contare lo Stato il fisco considerando gli extra profitti di tutti i settori banche e tutti gli altri messi insieme questo non si è voluto fare mentre si poteva fare senza sconvolgere la vita nessuno sullo Stato sociale serve il massimo impegno per rivitalizzare la sanità pubblica e salvare il sistema sanitario nazionale con un piano straordinario di assunzioni nella sanità ma non solo nei servizi sociali nei comuni e nella scuola e va applicata e finanziata quella legge sulla non autosufficienza buona legge marata lo scorso anno rivolta ai non autosufficienti e ai disabili restituendo al loro fondo i 400 milioni che sono stati loro tolti da questo governo e va rifinanziato il fondo sugli affitti azzerato dal governo Melone e ha aumentato un po' anche i finanziamenti per il trasporto pubblico locale perché quei soldi che gli hanno dato non si vanno a nessuna parte ecco sulla sanità del frio Nezza Giulia il tema delle liste d'attese è già stato toccato pochi minuti fa da chi mi ha preceduto la cura Federica e Riccardi che è stata quella di spostare soldi dal sistema pubblico verso i privati non ha funzionato adesso vediamo che siamo gli ultimi in coda per le liste di attesa quindi non possiamo piangere sul latte versato bisogna denunciare e cambiare queste cose riportando i soldi nel sistema pubblico attraverso l'assunzione di personale sanitario se poi la questione dell'immigrazione sappiamo da tempo quello che andiamo dicendo che le normative italiane devono adeguarsi alle normative internazionali è ancora in vigore la boss infine che è la fabbrica della 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 legge vecchia che va superata così come vanno archiviate le fantastiche sticherie di questo di questo periodo che puntano ad esportare i migranti fuori dai confini dei confini nazionali in cambio di soldi è il modello il modello è il flotte eracqueo con la Tunisia e della fresca avventura appena annunciata con l'Albania vedremo i sviluppi c'è poi il tema delle politiche industriali io credo che per un paese come il nostro che è il secondo paese manifatturiero d'Europa sia un tema urgente ed ineludibile purtroppo sparito dal tempo della cena ci sono centinaia di crisi aziendali aperte che vanno affrontate e risolte convertendo il nostro sistema produttivo con attenzione alla transizione ambientale energetica e digitale per difendere quantità e qualità dell'occupazione a partire dalle regioni del sud molto più penalizzate dai tagli al PNR al piano nazionale di ripresa e resilienza che sono stati infatti da questo governo grazie buona serata a tutti e buona partecipazione alle iniziative di venerdì prossimo grazie a lei Nazario Mazzotti come sempre del sindacato della Spicigiele del Friuli occidentale buonasera Mazzotti e al prossimo sabato ovviamente buona serata a tutti voi continuiamo con la cultura il Teatro Verdi di Pordenone ha tutte le carte in regola per poter diventare un vero e proprio sistema teatral culturale il dato che è emerso dalla ricerca qualitativa promossa dallo stesso Teatro Verdi è realizzata con il sostegno della regione Friuli-Venetia-Giulia che è stata presentata ieri pomeriggio in un incontro pubblico al Verdi il Teatro Verdi di Pordenone ha tutte le carte in regola per poter divenire nel breve o addirittura poter già essere considerato un vero e proprio sistema teatral culturale un teatro di programmazione e ospitalità che però nella percezione del suo pubblico e degli stakeholders è riuscito ad imporsi nel tempo come promotore e produttore di eventi culturali anche con una ricaduta sul tessuto economico e produttivo della città è quanto emerge dalla ricerca qualitativa promossa dal Teatro Verdi e realizzata con il sostegno della regione Friuli-Venetia-Giulia per analizzare il concetto di sistema teatro la ricerca è stata presentata nel pomeriggio di ieri in un incontro pubblico alla presenza tra gli altri del presidente del teatro Giovanni Lessio del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e dell'assessore regionale alla cultura Mario Anvil l'indagine condotta nei mesi scorsi dalla società Profili specializzata nel settore culturale ha indagato quale ruolo possa avere oggi un teatro e il settore teatrale per andare a definire un nuovo quadro di riferimento per il teatro pordenonese dal pubblico potenziale alla tipologia di offerte e alla comunicazione fino alle politiche verso partner e sponsor la ricerca ha coinvolto imprenditori anche extra regionali rappresentanti di enti e istituzioni e persone individuate tra il pubblico ideale e selezionate sulla base di caratteristiche vocazionali come evidenziato da Andrea Maulini amministratore delegato della società Profili la ricerca ha richiesto oltre mille ore di lavoro ed è pressoché unica nel suo genere a livello italiano ha permesso di individuare alcuni degli elementi qualificanti per il Verdi tra tutti l'originalità del teatro che da semplice operatore culturale è diventato prima impresa culturale e quindi soggetto istituzionale di riferimento da qui il concetto di sistema teatro inteso come rete di relazioni e collaborazioni che contemplano tanto gli spettacoli quanto gli incontri di approfondimento la progettualità del teatro ha inoltre la caratteristica di essere condivisa con partner di assoluta eccellenza basti citare la Gustav Mahler Jugend Orchestra il CAI nazionale l'Università di Udine e di rivolgersi a un territorio ampio non solo cittadino abbiamo fatto questa ricerca qualitativa sull'attuale ruolo del teatro e sul suo posizionamento nell'ambito culturale regionale anche in seguito ai difficili anni di pandemia ha spiegato il presidente del Teatro Verdi Giovanni Lessio tra i numerosi spunti emersi spicca la percezione di un teatro riconosciuto come promotore di cultura oltre che collante di varie realtà culturali ma anche sociali ed economiche un teatro ha concluso Lessio che ha creato in questi anni un vero sistema teatro un'impresa culturale che si pone quasi come un unicum a livello nazionale è stata inaugurata oggi nella sede della società operaia di Pordenone a Palazzo Gregoris la mostra storico-documentaria intitolata Angelo Baviera e i carriolanti friulani alla corte del Kaiser l'esposizione a ingresso libero sarà visitabile fino al 10 dicembre vediamo tutti i dettagli è stata inaugurata questa mattina nella sede della storica società operaia di Pordenone la mostra storico-documentaria intitolata Angelo Baviera e i carriolanti friulani alla corte del Kaiser curata da Alessandro Dapieve appassionato collezionista ricercatore di storia locale con una notevole ricchezza di contenuti che portano i visitatori a fare un vero e proprio tuffo all'indietro tra la fine dell'Ottocento e gli anni dieci del Novecento fu infatti in questo periodo che Angelo Baviera da Vigonovo insieme al socio Basilio Pezzutti di Fontana Fredda colsero la massima espansione della loro ditta con oltre mille dipendenti impiegati nella realizzazione di importanti opere fluviali tra bonifiche arginature e costruzione di centrali idroelettriche nei territori della bassa Austria e in particolare nella zona di San Polten tanto da ricevere un encomio ufficiale dallo stesso imperatore Francesco Giuseppe che nel 1910 si recò personalmente sui grandi cantieri di arginatura del fiume Traisen per incontrare gli stessi imprenditori italiani nell'esposizione che sarà aperta al pubblico fino al 10 dicembre si trovano documenti fotografie progetti diplomi benemerenze curiosità souvenir oggetti personali di lavoro tutti rigorosamente originali recuperati dalla vecchia casa di famiglia di Angelo Baviera tramite i suoi ultimi discendenti nel percorso espositivo si trova inoltre un monitor dal quale sarà possibile sfogliare virtualmente i registri delle maestranze dell'impresa a inizio novecento con nominativo anno di nascita e città di provenienza e quindi cercare magari qualcuno dei propri avi emigrato per lavoro e impiegato presso la ditta Baviera Pezzutti nel solco tracciato già anni fa dalla società operaia sempre sensibile alla storia e alla storia dell'immigrazione friulana del mondo e questo progetto si lega molto bene al più grande progetto vite forestiere partito ancora in epoca pre-covid continuato dopo e avrà un suo seguito un suo seguito prossimamente anche è un filone tanto caro questa operaia che lo che lo ha fatto che lo ha seguito con una veramente compassione in tutti questi anni la mostra che si apre oggi avrà una durata prossima un mese fino al 10 dicembre ed è indicata particolarmente anche per le scuole che possono venire come Alessandro Dapieve si è proposto anche per visite guidate che sono molto interessanti non solo per il carattere tecnico quindi delle scuole professionali ma anche per chi segue un percorso umanistico perché qua si tratta di storia di storia dei nostri nonni dei nostri bisnonni che sono stati costretti a percorrere le strade e le migrazioni sono appassionato di storia locale del mio paese Fontana Fredda da molto tempo ricerco con mio padre qualsiasi oggetto fotografia documento ho avuto la gran fortuna di entrare in questa casa quasi abbandonata da tempo il proprietario mi ha aperto le porte e ringrazio Filippo Lemau che è proprio lui che mi ha dato questa possibilità e incredibilmente una delle prime cose che vado a trovare all'interno di questa casa è un cassetto segreto di una scrivania nel quale c'è un diario scritto da questo signore Angelo Baviera che scrive esattamente cosa successe a Fontana Fredda durante la prima guerra mondiale in questa mostra di quel periodo non c'è quasi nulla perché ho voluto far sì che questa mostra non sia un punto di arrivo ma un punto di partenza un punto di partenza per intrecciare altre storie si parte e ci si sofferma nel periodo tra la fine dell'Ottocento e poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale perché Angelo Baviera era un imprenditore affermato in Austria dove lavorava su arginature fluviali turbine energia idroelettrica e addirittura nel 1910 ha l'occasione di avere un encomio da parte del Kaiser austriaco Francesco Giuseppe e nel 1911 di fare una grande mostra a Torino per i 50 anni all'unità d'Italia qui in questa in questa mostra potete vedere delle fotografie che l'ultima volta erano state esposte praticamente oltre 100 anni fa e chiudiamo con una notizia di sport questo fine settimana tra oggi e domani a Clout e nel paraghiaccio verrà ospitata la seconda prova del Triveneto Gold della Coppa Italia di pattinaggio artistico su ghiaccio appunto si tratta della gara di pattinaggio più importante di quest'anno a Clout non più una gara intersociale ma una competizione che vede affrontarsi atlete di livello nazionale la prima prova è andata in scena a Padova e la terza invece in programma a Trento in base ai punteggi le atlete si qualificheranno o meno alla finale che si terrà a Pinerolo in aprile le gare di Clout si svolgono nel palaghiaccio al CEO della Valentina dalle 8 di mattina alle 8 di sera con ingresso libero per il pubblico a partecipare pattinatori provenienti da tutto il Triveneto siamo onorati di ospitare atleti di fascia nazionale ha commentato Marina Barova allenatrice della polisportiva Ghiaccio Clout e responsabile della struttura non vediamo l'ora di trovarci tutti insieme per un fine settimana di sport in una cornice di alto livello auguro buona fortuna a tutti gli atleti che gareggiano in questo weekend a concluso e questa era anche la nostra ultima notizia per questa edizione l'appuntamento con informazione su Teleport Denone ritorna lunedì alle 19 adesso vi lascio al meto e un proseguimento di serata con la programmazione di Teleport Denone dopo le deboli piogge di questa notte sulla nostra regione è arrivata aria più secca ma piuttosto fredda in quota che ha mantenuto comunque il tempo bello sulla regione ce l'è in genere oggi sereno poco nuvoloso temperature massime attorno ai 14 gradi domani avremo un po' di variabilità sulla regione nelle ore centrali un fronte si avvicinerà all'Italia spezzandosi in due sole alpi una parte passeranno delle alpi una parte sul centro Italia e noi avremo correnti da ovest a tratti un po' più umide e sarà possibile anche nelle ore centrali qualche breve debba e pioggia forse un po' più probabile sul Carso e sul Lisontino durante le ore notturne l'attenzione è la possibilità di qualche banco di nebbia sulla pianura e nelle valli temperature massime domani ancora attorno ai 14-15 gradi lunedì ancora cielo da poco nuvoloso variabile sempre per questo flusso di correnti da ovest però molto più miti in quota quindi avremo il fenomeno dell'inversione termica con temperature appunto più miti in quota andremo fino a più 5 più 7 a 2000 metri piuttosto che a fondo valle quando al mattino avremo temperature probabilmente sotto zero martedì ancora cielo da variabile nuvoloso ancora zero termico decisamente alto sopra i 3000 metri e anche a 2000 metri temperature decisamente sopra media attenzione in serata alla possibilità di qualche banco di nebbia ma anche dalla tarda serata l'arrivo di un veloce fronte che potrebbe portare di nuovo tra martedì e mercoledì qualche pioggia in genere debole sulla nostra regione è tutto buona domenica l'arrivo Grazie a tutti.